E' stato condannato a 20 anni di reclusione per l'uccisione della moglie Luigi Delbello, 81 anni di Guastameroli di Frisa, Chieti. Delitto avvenuto il 21 luglio 2010. La sentenza ha oggi corrito abbreviato dinanzi al gruppo di Lanciano Francesco Marino. Il pubblico ministero, Rosario Avecchi, aveva chiesto la condanna a 30 anni di reclusione, ma il giudice ha ritenuto di concedere all'imputato attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Il difensore, l'avvocato Sandro Sala, aveva chiesto la soluzione per mancanza di prove e alla lettura della sentenza ha preannunciato ricorso in appello. La vittima del luxo ricidio, Emilia Tortella, di 74 anni, venne uccisa mentre era inferma a letto, colpita da una decina di colpi al torace e al cuore.